Un altro domani, trama puntate, venerdì, 10 giugno 2022. Giulia non riesce a fare grandi progressi, per quanto riguarda le sue indagini su Carmen. Elena e Diana le forniscono la loro versione dei fatti, sulla storia d'amore che c'è stata tra sua nonna e Carlos. Però, le due donne raccontano una storia completamente diversa, e Giulia continua a non avere la minima idea di dove sia la verità. La cosa la fa sentire provata, dato che sente di non conoscere le sue origini, e di non sapere abbastanza sul suo passato. A questi dubbi si aggiungono quelli sul matrimonio, che come sempre sono davvero tanti. Giulia non è convinta di questo passo, ma trova in tirso un confidente ed una persona di cui fidarsi. Augustina è nervosissima perché Carmen, ancora non arriva alla festa. Prima che Francisco scopra tutto, manda Kiros a cercare la ragazza. Quest'ultimo sorprende Carmen mentre si sta divertendo, ad una festa indigena. Le danze della ragazza ed il suo modo di fare intraprendente, colpiscono molto Kiros, che resta affascinato. Giulia trascorre il suo addio al nubilato con Tirso, e questa si dimostra una festa, molto particolare e diversa dal solito.